E quando non c'è sta speranze, o almeno pare che non ci sia, due sono le risorse che un popolo può sfruttare. Una è l'istinto di sopravvivenza. Cercato dentro, aggrapparsi alla vita con i denti, ad ogni costo, non mollare. Non sopravvivenza, noi non siamo abituati, noi non siamo abituati. Quando c'è spurcato il sangue, noi ci passiamo la mano in pace, facciamo una poca così, e siamo prontanati a voi, a seconda, a me apriamo, a me apriamo. Per noi, ora mamà, quella bella mamà. Ma che hai il suo nome di Nissan e le vi, ha visto il questo, quando ci vedi da un agrocio pure a noi. Pure a noi, ci vedi da una mamà. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Abitos www.mesmerism.info non c'è ancora 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 non c'è ancora